Ok ragazzuoli, eccoci qui su Assassin's Creed 3 Remastered E... prossimiamo alla nostra avventura Vi invito a lasciare un bel like, condividete il video, spammateli ovunque E noi siamo qui pronti per iniziare la nuova missione Il Soldato Come ci sei riuscito, seguiamo lì Non vi ricordate? Lavoro per il generale Braddock Quando non mi occupo di voi, è ovvio Ma mamma come sono attrezzati Salve signori Comunque raga ho visto un video Uno youtuber americano, non so di dove era Ha fatto il video di comparazione Fra la versione normale e questo originale ragazzo Ok Io lo porto a fare tutto solo Salve Come va la ronda? Thomas Smith Nuova regola Arrivato da Londra alla settimana Chi è? Ma tu diavolo qua? Così dice Sire Datti una mossa Che soldato? Prigionieri? Vieni dentro, vieni dentro che uno in meno fa sempre bene qua Ok Qua non c'è nessuno che mi può vedere I primi sono andati Non capisco perché non posso fare un macello Che devo liberarli piano piano Ok Ok i due sono andati Non so come mai Prima io mi ero Mi ero adentrato stealth Raga Salve signori Cioè quanti ce ne stanno qua dentro Raga io vado piano Non vorrei che se Corro mi pizzicano Dove stanno? Sulla nave addirittura gli altri Qua c'è qualcuno che mi vede Se lo faccio fuori Ok Ok l'ho fatto passare Ok Giriamo dietro Questo in teoria dovrebbe essere Più facile perché possiamo agire in stealth Grazie a tutti questo tizio questi tizi qua mi vedono ok liberati dai grande e ora un'ora di tranquillità non chiedo altro invece vengo svegliato dopo dieci minuti da questo chiasso infernale esigo una spiegazione ed è meglio che sia valida cosa? com'è potuto succedere? la mia preziosa merce è libera? è inaccettabile state certi che avrò la testa dei responsabili ma prima sistemiamo questo disastro uccidete il porte uccidete chi prova a scappare non mi importa se è uno di noi o uno di quelli chi si avvicina alla porta verrà subito ucciso ci siamo capiti? respingeteli uccidete la shot perfetto ho fatto fuori sto stronzo e ora che succede aspettiamo non ci vorrà molto immagino missione completata vabbè qua raga tutti i secondari sicuramente erano tipo non farti beccare tutte ste robe qua sequenza 2 terminata stavo dicendo che non siamo mai usciti dall'animus mi sa che è la volta buona vediamo che succede raga e poi ci salutiamo sono passate settimane da che abbiamo liberato quei mohawk dalla prigionia speravo che il loro capo ci avrebbe contattato ma finora tutto tace gli uomini sono nervosi vogliono sapere che cosa gli aspetta e non ho una risposta soltanto lì resta attivo segue le tracce se ve ne vaghe si aggira per le strade e per lustra i boschi vicini sperando di imbattersi in uno di quelli che abbiamo salvato c'era anche una donna quella notte fu lei a trarre in salvo tutti gli altri ecco se la trovassimo credo che avrei delle risposte così osservo e aspetto sperando che la mia vera missione possa infine avere inizio grazie a tutti ok ragazzuoli io direi che per questo video ci salutiamo qui e poi riprendiamo il nuovo video con la missione quindi ricordatevi di lasciare un bel like ci vediamo al prossimo bella ciao a tutti